Il Castelfidardo dimostra di credere ancora nei play-off. I bianco-verdi fanno un sol boccone della già retrocessa olimpia-gnonese vincendo in modo largo in una gara che praticamente non è stata mai in discussione. Diverse le motivazioni certo, ma anche il differenziale tecnico è apparso subito abissale tra le due compagini. Maurizio Lauro, tecnico dei padroni di casa, propone tra i pali sprecacea al posto di David con l'ander monachesi schierato sin dal primo minuto con la maglia numero 10. Niambe, almeno inizialmente, è in panchina. Di Dio, Corcione, Perpepai e Braconi completano la linea offensiva dei padroni di casa. L'intento appare sin da subito abbastanza chiaro non concedere chance agli avversari e provare a chiudere il conto già nel primo tempo. Così è infatti con il Castelfidardo che va a riposo addirittura sul 3-0 sostanzialmente è un monologo che vede protagonista Perpepai, autore di una tripletta. La prima rete arriva dopo solo i 9 minuti e che evidenzia la grande volontà di Biancoverdi. Gli alto molisani guidati da mister Antonio Di Rosa appaiono incapaci di imbastire qualsiasi reazione e dal 26esimo giunge puntuale il raddoppio firmato da Braconi. Prima del riposo è ancora Perpepai al 36esimo a farsi trovare pronto con l'appuntamento con il gol. Partita virtualmente chiusa e secondo tempo utilizzato per dare ampio spazio ai rincalzi a coloro cioè che abitualmente trovano meno spazio. Il poker giunge al quarto d'ora sempre con Perpepai e da quel punto occhio ai risultati di Matese Pineta e Cinzia al Balonga Tolentino. Il Castelfidardo è ancora in corsa e crederci non costa nulla in vista della chiusura dei giochi nell'ultima giornata sabato prossimo a Fiuggi.